I calabresi più ricchi di Pablo Escobar, da un'intercettazione la voce di un australiano interessato ad entrare in affari con le cosche dell'Andrangheta, già attive con il narcotraffico colombiano e con le mani sui porti di Anversa e Rotterdam, fiumi di cocaina che dal Sud America entravano in Europa. Abbiamo a che fare con un'organizzazione che si è evoluta, ricca, che ha una elevata capacità corruttiva proprio per l'elevata disponibilità di liquidità. I soldi della droga reinvestiti in società immobili, autolavaggi in mezza Europa, soprattutto Germania. Altri milioni di euro rientravano in Italia in contanti tramite i cosiddetti spalloni. 108 le persone arrestate, alcune con mandati internazionali, oltre 20 tonnellate di coca sequestrate tra Gioia Tauro e gli altri porti europei, rinvenute armi da guerra. Per contrastare le organizzazioni criminali calabresi, le loro proiezioni nel mondo è necessario cooperare investigativamente, non solo a livello locale, neppure a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Tra i nomi di spicco quello di Lucio Aquino, che aveva rapporti con il clan del Golfo, organizzazione paramilitare del narcotraffico colombiano ed altri esponenti storici dell'Andrangheta. Timorabito, ristrangio, inirta, quindi abbiamo veramente tutte le famiglie principali dicendo appunto a collegarsi e a fare da hub fondamentalmente per l'intero narcotraffico, se possiamo dire, europeo.